Sapete che il Comando Provinciale Carabinieri di Matera come consuetudine ogni anno attua un'operazione che fino all'anno scorso veniva nominata teofania, cioè durante le feste di fine anno, durante le feste natalizie viene data una particolare intensificazione ai servizi, perché le scuole chiudono, quindi quest'anno peraltro le vacanze sono durate tanto, durano ancora, riapriano il 10, quindi tre settimane di vacanze, di conseguenza più giovani, più movida, più gente in giro. Sapete che il nostro territorio è un territorio fatto anche da persone che sono emigrate e che quindi approfittano delle feste per tornare, questo non lo dico a caso perché poi quando andremo ad analizzare l'attività operata dalla stazione di Gorgoglione capiremo perché. In ogni caso è stato molto capillare perché in effetti la stazione di Gorgoglione unitamente anche alla liquida operativa della compagnia dei Pisticci, abbiamo attuato delle informazioni, abbiamo assunto delle informazioni nella fattispecie di questi giovani che lasciano il paese, perché il paese è piccolissimo, per poi venire durante le feste di Natale. Abbiamo avuto notizia che uno di questi sarebbe sceso con un grosso carico di sostanza stupefacente. L'abbiamo seguito per alcuni giorni e non ha dato quei frutti che noi volevamo, però poi il giorno 31 praticamente l'abbiamo seguito e il giorno 1 poi abbiamo operato. Perché? Perché lui si è reso responsabile di alcune cessioni a dei giovani del posto, alla vista di questi giovani che si dileguavano, siamo intervenuti e quindi l'abbiamo arrestato con 19 grammi, l'esattezza di Ashish.